Professionalità e cortesia, tutto questo lo puoi trovare da CRE di Siani Giuseppe, l'officina di utensili più vicina a te. Stanno destandone un poca apprezzione, soprattutto tra gli amministratori locali della costiera malfitana, le conseguenze del provvedimento della prima sezione del TAR di Salerno che ha respinto la domanda cautelare delle compagnie di navigazione contro l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno. Infatti, con una missiva trasmessa al prefetto e alla conferenza dei sindaci della costiera, la Travelmar, la principale compagnia di navigazione per il trasporto pubblico via mare in costiera, ha annunciato l'aumento dei prezzi dei biglietti a partire dal 1 giugno in considerazione del taglio delle corse. A causa delle disposizioni regolamentari dettate dalla Capitaneria di Porto di Salerno e dall'attuale impossibilità di utilizzare le imbarcazioni in dotazione per i collegamenti nel Porto di Maiori, si legge nella missiva, siamo costretti a dover organizzare la nostra politica aziendale e commerciale, attraverso una ridefinizione del servizio di trasporto che comporterà non solo una inevitabile flessione della mobilità marittima su diversi scali, ma determinerà necessariamente un aumento delle tariffe e l'eliminazione delle agevolazioni praticate in favori dei residenti in costiera amalfitana. Sulla vicenda è intervenuto il presidente della conferenza dei sindaci, Fortunato della Monica, il quale, senza nascondere la sua preoccupazione, ha lanciato un appello al buonsenso e ha chiesto di congelare qualsiasi ipotesi di dimodulazione del costo dei biglietti sulle tratte delle vie del mare. Io sono seriamente preoccupato, con onestà, io devo ringraziare il prefetto sempre per la sua massima disponibilità. Ieri, per la verità siamo stati in riunione, quasi tre ore, io e il prefetto e il comandante della capo di Porto di Salerno, che anche lui, nonostante l'ordinanza del TAR, sta cercando anche in tutti i modi di trovare una soluzione per quando è possibile. Abbiamo prospettato un'idea di soluzione che sto in queste ore, sto cercando di percorrere anche con tante difficoltà per praticare questa eventuale soluzione. Non so se ci riuscirò, ma sto veramente lavorando tanto. Con onestà ne va l'immagine dell'intera costiera amalfitana, ma soprattutto dal punto di vista internazionale, oltre che nazionale. Aumentare le tariffe, togliere le agevolazioni ai residenti e chi va in costiere per lavorare, veramente è un danno incalcolabile. Ma soprattutto sarà un danno incalcolabile, inimmaginabile, l'ingolfamento che avverrebbe sulla statale 163, che già normalmente sapete com'è la nostra statale, la viabilità della costiera amalfitana. Con le riduzioni della dimensione delle raghette, ovviamente possono portare meno persone, quindi tutte le altre persone si devono per forza buttare nel lato terra. E poi ricordo a me stesso, ma a tutti quanti noi, che nella prima settimana di luglio ci sta l'inaugurazione dell'aeroporto di Ponte Cagnana, che porterà fortunatamente tanti altri turisti ulteriori nel nostro magnifico territorio. Quindi sto veramente lavorando notte e giorno, è una settimana che non riposo un attimo. Spero di trovare una sindesi insieme ai miei colleghi, in modo da trovare eventualmente qualche spiraglio per un'eventuale soluzione. Intanto, dopo le continue interlocuzioni con il prefetto di Salerno, mercoledì a Cava dei Tirreni, dopo la firma della Costituzione dell'azienda consortile speciale, che si occuperà dei servizi sociali nella città metelliana in costa d'Amalfi, è in programma la riunione della conferenza dei sindaci della costiera per affrontare proprio la problematica delle vie del mare.